Siamo noi a ringraziare l'Umbria per questa opportunità e la collega, amica la professoressa Samu quindi è per noi un grande piacere essere qui oggi con voi aprirò io un po' per darvi qualche coordinata senza alcuna pretesa di sostituità perché appunto il titolo ambizioso gli strumenti digitali copre ovviamente un mondo ma speriamo di darvi una cornice un po' ampia con qualche anche strumento pratico che speriamo possa esservi utile anche proprio nella pratica didattica dell'italiano come L2 e LS poi lascerò la parola a Giorgia che appunto mi sta affiancando è una brillante eccellente dottoranda e quindi proseguirà lei questa carrellata allora condivido un attimo il mio schermo dovreste vedere le slide me lo confermate sì perfetto bene grazie mille allora parto da questa immagine un po' diciamo provocatoria che praticamente che mi piace mi piace molto un'immagine che appartiene ad una collezione di cartoline di ritratti in realtà erano stati diciamo dipinti di artisti francesi agli inizi del novecento che immaginavano il futuro la scuola dell'anno 2000 come vedete sullo sfondo quindi diciamo mi piace proporvela proprio perché per partire con questa riflessione rispetto proprio tecnologie nella didattica in generale le tecnologie a scuola e ovviamente noi parliamo della glottodidattica dell'educazione linguistica con riferimento all'italiano e quindi diciamo questa immagine così un po' futuristica che cosa ci fa pensare come è stata l'evoluzione poi nella realtà quali aspetti possiamo realmente ritrovare quali fortunatamente no ma come dire insomma questa immagine sicuramente ci fa riflettere proprio su come la tecnologia può oppure non può assolutamente essere nella diciamo a beneficio dell'apprendimento e dell'insegnamento a questo proposito mi piace citare un'espressione della professore Rivoltella che parla di regia metodologica praticamente la regia metodologica e quindi anche tecnologica che è nelle nostre mani cioè siamo ovviamente noi educatori noi docenti ad utilizzare le tecnologie secondo quelli che ovviamente sono i nostri obiettivi i nostri scenari il nostro il nostro target di apprendenti e quindi siamo noi appunto a scegliere ovviamente lo strumento più adatto la tecnologia di per sé è neutra siamo siamo noi ovviamente che la pieghiamo ai nostri obiettivi ai nostri scopi e quindi qui ovviamente accenno anche a tutto il dibattito sull'intelligenza artificiale che avrete eseguito poi se abbiamo tempo magari ci ritorniamo perché ovviamente la famosa CACPT che ora è stata fortunatamente riaperta dopo un mese quasi di pausa di chiusura eccetera è ovviamente nelle nostre mani quindi siamo noi a guidare i nostri studenti proprio nell'uso dell'intelligenza artificiale così come di qualsiasi altro strumento e appunto queste erano le immagini futuristiche di cui parlavo e ora proprio a proposito di regia metodologica e nel nostro contesto post pandemico la nostra diciamo l'impegno che diciamo ci vede proprio in questo in questo periodo è proprio l'uso del digitale nell'era del new normal cioè quello che stiamo cercando di fare è proprio utilizzare le tecnologie ora come non più come un'emergenza diciamo così un'esigenza forzata costretta dalle contingenze come durante la pandemia ma proprio per ridisegnare rimmaginare il futuro della scuola il futuro della gloria didattica dell'adeguazione linguistica alla luce delle potenzialità delle lessons learned di quello che abbiamo appreso durante appunto l'emergenza sanitaria e qui vi cito alcuni organismi internazionali come l'UNESCO che stanno ovviamente lavorando in questo senso anche l'Ocse che parla appunto di questi quattro scenari del futuro della scuola dove dell'istruzione generale dove ovviamente la tecnologia riveste un ruolo fondamentale e questo è un po' diciamo il modello che ora in ambito internazionale è stato proprio il frutto della questo in particolare diciamo un modello anglosassono americano canadese che diciamo si è diffuso un po' in ambito internazionale proprio il modello IFLEX che è hybrid e flexible allo stesso tempo quindi con queste potenzialità che in realtà sono quelle che abbiamo tutti noi sperimentato durante durante la pandemia quindi in parte a distanza a gruppi in presenza con i materiali online la condivisione di piattaforme tutto ciò che conosciamo conoscete tutti e che oggi rappresentano appunto possono rappresentare un valore aggiunto perché sappiamo sappiamo tutti ormai usarli e possiamo scegliere quando e come usarli in ambito di didattica delle lingue ed educazione linguistica mi piace citare questo rapporto delle CML io ho il piacere di essere di far parte della del consultancy team delle CML che è l'European Center for Modern Languages è l'istituzione del Consiglio d'Europa che si occupa di lingue e questo rapporto che è molto interessante proprio va in questa direzione cioè il futuro dell'educazione linguistica proprio alla luce dell'esperienza del covid dando anche una serie di suggerimenti sulla base di alcuni sondaggi di alcune indagini appunto condotte nel periodo emergenziale che appunto in qualche modo ci ha fatto ci ha illuminato ci ha lasciato comunque appunto delle lessons importanti di cui da capitalizzare da esaurizzare per appunto migliorare la nostra la nostra didattica ma in ambito internazionale l'uso delle tecnologie per la didattica delle lingue è diciamo raccomandato già da molto da tempi insomma di gran lunga antecedenti all'emergenza sanitaria quindi qui faccio riferimento sempre senza alcuna pretesa di sostività ad alcuni rapporti per esempio il rapporto della la raccomandazione del consiglio del 2019 una comprehensive approach teaching learning languages dove praticamente c'è proprio che tra l'altro riprende tutta una serie di precedenti documenti di precedenti rapporti e appunto punta l'attenzione sull'importanza delle tecnologie per quindi computer language learning come vedete anche nel rapporto sulla sul CLIL per potenziare gli apprendimenti linguistici e queste sono un po' diciamo le aree di ricerca che in ambito internazionale appunto in epoca di gran lunga insomma pre-pandemica proprio approfondiscono questo legame tra gli apprendimenti linguistici e le tecnologie quindi ovviamente il primo acronimo che sicuramente tutti conoscerete che è il COOL computer assisted language learning quindi è appunto l'apprendimento delle lingue attraverso il computer che poi ha avuto una sua evoluzione con il MOLE mobile assisted language learning quindi l'uso dei mobile device dei cellulari delle app tutto ciò che ha a che fare con l'uso appunto delle app per l'apprendimento delle lingue quindi un po' on demand con il proprio device mobile e ancora gli altri due acronimi che appunto fanno riferimento a tutta una serie di studi di ricerche internazionali a volte anche abbastanza diciamo così contigui insomma spesso il confine non è così netto e quindi TEL che invece è l'acronimo di Technology Enhanced Language Learning quindi l'apprendimento questa volta diciamo la AID Enhanced rispetto alla A di Assisted o AID rappresenta un quid in più un potenziamento quindi attraverso le tecnologie cioè un'aggiunta un qualcosa in più che le tecnologie ci consentono di fare e che invece con diciamo un po' la didattica tradizionale magari non riusciremo a fare quindi qui ancora una volta come aggiungere qualcosa alla didattica tradizionale quando e come lo riteniamo opportuno e l'ultima che è quella più attuale I call Intelligent Computer Assisted Language Learning quindi ovviamente tutto il mondo dell'intelligenza artificiale applicata agli apprendimenti linguistici e quindi il riconoscimento vocale e fino a arrivare ovviamente a chat GPT e praticamente nel momento in cui parliamo di didattica digitale di uso di strumenti digitali facciamo spesso riferimento a questo modello il modello SAMR che è l'acronimo di Substitution Augmentation Modification e Redefinition che sono un po' le fasi in cui ci troviamo ad utilizzare appunto gli strumenti digitali che possono essere anche un po' fasi della nostra vita professionale come educatori come docenti quindi o anche momenti momenti diversi momenti non diciamo così necessariamente autoescludenti ma anche a volte complementari un momento per esempio di Substitution che è la sostituzione la semplice sostituzione dello strumento quindi immaginiamo la lavagna la LIM che sostituisca la lavagna d'ardesia ma senza alcuna diciamo così senza alcun valore aggiunto solo utilizzandola per esempio per scrivere con il con il pennarello invece che con il gesto per esempio l'augmentation invece è l'aumento funzionale quindi con la LIM io riesco non solo a scrivere come farei con la lavagna d'ardesia ma posso andare ovviamente su internet posso fare tante cose in più le ultime due fasi modification e redefinition invece sono proprio una trasformazione appunto della propria pratica didattica della propria progettazione didattica alla luce delle tecnologie cioè io ho sempre presente nel mio filo rosso dell'attività didattica che in qualsiasi momento in qualsiasi e per i miei obiettivi posso appunto ridefinire posso utilizzare le tecnologie proprio per integrarle nella mia pratica didattica e a questo proposito mi piace ricordare ovviamente questo acronimo che tutti conoscerete il quadro comune europeo di riferimento per le lingue con le ultime due sigle WC il volume complementare che fa riferimento all'aggiornamento al documento del 2020 che è appunto una integrazione una nuova diciamo versione che mantiene ovviamente l'impianto concettuale ma con una serie di novità tra cui per esempio l'online interaction l'interazione online che fa proprio esplicito riferimento all'uso del digitale nell'interazione appunto online quindi l'uso della lingua attraverso la rete e mi piace citare anche questo aspetto importante del volume complementare che è user as a social agent quindi l'uso dell'utente come agente come attore sociale e quindi praticamente le quattro modalità di comunicazione che tutti conosciamo produzione ricezione interazione mediazione che insieme all'approccio orientato all'azione che appunto è fondamentale nel volume complementare ci lasciano facilmente intravedere quelle che sono le potenzialità delle tecnologie proprio perché attraverso le tecnologie noi riusciamo realmente a creare quegli scenari autentici e quindi proprio il senso dell'autenticità dell'uso della lingua in contesti reali appunto un approccio orientato all'azione quindi lo studente che realmente riesca a fare qualcosa di concreto al di là della fiction al di là della situazione che possiamo ricreare simulata e a questo a questo proposito vi faccio vedere alcuni scenari che ho creato con i miei studenti quest'anno proprio alla stranieri di Perugia nel mio corso di digital humanities che dove insegno didattica digitale e ho fatto proprio provare loro la diciamo questa sorta di approccio orientato a variazione attraverso degli scenari di apprendimento lo scenario il learning scenario è proprio contenuto nella sempre nel volume complementare praticamente l'obiettivo era costruire un percorso turistico con un reale quindi con ovviamente degli amici da proporre a degli amici sono la maggior parte dei studenti delle Germanities del nostro corso sono studenti internazionali e quindi praticamente l'obiettivo era quello di far vedere far visitare alcuni luoghi appunto alcuni tenari turistici di Perugia o comunque dell'Umbria a dei compagni e degli amici della propria città del proprio paese e quindi vedete questo lavoro è stato fatto in gruppi dagli studenti sulla condivisa su una piattaforma Jamboard quindi la piattaforma digitale e vedete come in base al livello B1 il compito era quello di andare concretamente a costruire questo scenario attraverso proprio degli elementi delle azioni reali quello che i nostri ragazzi fanno quotidianamente quindi la recensione di un ristorante di un i posti insomma le foto delle qui vedete ovviamente Perugia oppure la mole di Narni che appunto io non conoscevo e mi hanno loro stessi presentato mi hanno illustrato poi ovviamente questi scenari dovevano essere raccontati presentati ai compagni quindi diciamo un esempio di come semplicemente attraverso una Jamboard attraverso attività collaborativi a proposti appunto loro concrete reali siamo diciamo in grado di appunto proporre delle attività autentiche e questa è l'interazione online di cui appunto qui facevo riferimento rispetto proprio alla modalità all'uso della lingua negli scambi in rete qui faccio riferimento ad alcune pubblicazioni che avevo curato quando ero prima ricercato presso l'Indire prima di venire alla Stranieri ora andiamo a vedere alcuni esempi quindi qualche faremo appunto con Giorgio una carrellata ma ovviamente senza pretesa di esotività intanto partiamo da questa differenza che tutti conosciamo del famoso linguista Cummins le basic interpersonal communication skills quindi le competenze BICS che sono quando parliamo di italiano come le due le S ma in generale vale per tutte le lingue la comunicazione nell'interazione nei domini familiari informali in contesto quotidiano quando invece parliamo di CALP Cognitive Academic Language Proficiency ovviamente ci spostiamo sulla lingua dello studio la lingua che utilizziamo in contesti formali e quindi per studiare per interagire per imparare anche una materia una disciplina a scuola o all'università e quindi a questo proposito vi propongo alcuni strumenti alcuni tool ripeto senza alcuna protesta di esattività che vi invitiamo a provare per poi ovviamente contestualizzare all'interno della vostra progettazione intanto questo Radio Garden è bellissimo se non lo conoscete provatelo perché è veramente bello per quanto riguarda l'ascolto allora qui siamo appunto nell'ambito vi dicevo delle quattro modalità di comunicazione del volume complementare e la ricezione appunto è una delle quattro modalità in particolare l'ascolto quindi con questo tour se digitate a Radio Garden vedrete vi si apre il mondo è un mondo proprio vi sembra anche dal punto di vista grafico è molto carino perché si fonda anche su Google Earth quindi vi trasporta proprio in questa sorta di mappa mondo con tutta una serie di puntini verdi voi potete quindi andare a diciamo individuare la geolocalizzazione quindi la posizione quindi parliamo di italiano può essere Roma può essere una qualsiasi altra può essere Perugia può essere un altro punto dell'Italia posizione geografica e andrete praticamente a sentire ad ascoltare l'emittente la radio che viene praticamente trasmessa in quel momento in quel luogo quindi diciamo che è un ascolto autentico perché sono appunto le trasmissioni radiofoniche e la radio di quella di quel posto proprio di quella di quella città di quel paese e quindi ovviamente la possibilità di un'esposizione autentica alla lingua quindi immaginate non so le notiziari anche la musica le canzoni insomma qualsiasi tipo di esposizione ad un input audio orale che possa essere assolutamente autentico proprio perché è la radio locale quindi può essere un esercizio o anche così a livello molto informale lasciato proprio un po' come gamification perché comunque c'è sempre con l'uso delle tecnologie c'è sempre in qualche modo comunque un approccio alla un po' le meccaniche del gioco in qualche modo sono chiamate in campo ma può essere anche una lezione magari un po' più strutturata attraverso il palinsesto per esempio delle radio delle emittenti in una particolare fascia oraria quindi magari non so qualche minuto della lezione che coincide con quella trasmissione andare a sentire che cosa dicono le news che cosa quindi un esercizio così di diciamo ascolto di comprensione assolutamente autentico perché è il contesto appunto reale l'attore sociale che ci propone il volume complementare quindi sicuramente anche questo viaggio vedrete insomma dal punto di vista anche ripeto della diciamo di questa sorta di viaggio immersivo è molto carino proprio perché vi sembra proprio di navigare il mondo allora io non so se ci sono domande perché non leggo la chat però magari se sei d'accordo vado avanti poi magari lasciamo le domande un po' alla fine se c'è qualche qualche richiesta o qualche dubbio perché appunto al momento non vedo la chat sempre in ambito di diciamo ricezione e produzione orale sicuramente i podcast i podcast sono molto molto utili anche ovviamente per la produzione orale quindi per esempio strumenti come Anchor come Garage Band sono diversi che permettono di creare appunto questi episodi che possono essere gli episodi no della della legate alla scuola legate al territorio legate insomma delle situazioni che magari sono gli stessi studenti a realizzare con delle puntate e quindi producendo loro stessi no delle ovviamente delle puntate quindi appunto registrando la loro voce ancora per la produzione orale scritta uno strumento che mi piace moltissimo si chiama VoiceRed VoiceRed permette di caricare delle immagini e di reagire di commentare che ha degli spunti non solo delle immagini ma anche dei testi quindi degli input che vengono per esempio proposti dal docente e il commento che si può inserire in modalità tra l'altro collaborativa perché condividendo il link tutti possono contribuire può avere proprio un carattere multimodale quindi può essere un testo scritto può essere una registrazione un audio può essere un video quindi può essere anche lo studente stesso che parla e quindi registra la sua voce oppure addirittura con la webcam registra anche il suo volto e quindi è anche un esercizio tra l'altro di riflessione metacognizione metalinguistico perché ovviamente prima di postare il commento che può essere una richiesta un task del docente si può riascoltare quindi anche ripetere la registrazione se non si è per esempio soddisfatti quindi questo strumento per esempio viene utilizzato anche proprio per queste attività collaborative quindi una discussione una sorta anche di forum parlante perché appunto si può interagire si può rispondere ad un input lanciato dal docente appunto in modalità diversa multimodale quindi appunto con un testo con delle immagini con un audio con un video e quindi ovviamente mettendo in circolo le abilità linguistiche in modalità integrata ancora vado un po' velocemente poi magari posso assolutamente lasciarvi queste slide e quindi condividere anche i vari suggerimenti sulla lettura sull'ascolto ovviamente gli audiolibri qui c'è insomma un esempio ma sicuramente lo strumento dell'audiolibro dà un po' questo valore aggiunto anche dello storytelling non solo la lettura la lettura per piacere ma anche l'ascolto che ci va un po' a richiamare il bisogno quasi ancestrale dello storytelling appunto dell'ascolto che sicuramente è piacevole poi tra l'altro accompagna ovviamente la lettura e quindi è un'integrazione delle varie abilità qui sempre sull'ascolto abbiamo le notizie quindi diciamo sia l'ascolto questo è anche sono anche versioni semplificate quindi magari anche per i livelli inferiori e quindi anche qui l'ascolto e la lettura per potenziare anche proprio per intrecciare le varie le varie abilità ancora news is low italian quindi questo è diciamo l'orientamento il target sono apprendenti anglofoni però ovviamente in generale poi possiamo tarare un po' il tutto sui nostri apprendenti e quindi anche qui slow italian è diciamo interessante questa no poi il rallentamento e quindi il pace il passo che viene in qualche modo adeguato ai nostri apprendenti eh ancora sul l'italiano sempre per lo studio qui language tool punto org permette una diciamo un fornisce un feedback rispetto all'appunto alla scrittura quindi qui siamo sulla produzione scritta e quindi i suggerimenti che vengono ovviamente dell'intelligenza artificiale su la produzione di un testo scritto quindi questo può essere ovviamente un esercizio sempre con i caveat che ovviamente noi docenti e noi educatori abbiamo rispetto a quello che può essere il si è parlato tanto del cheating insomma del fatto di evitare la copiatura l'intelligenza artificiale e così via però comunque può essere un suggerimento un esercizio anche a livello metacognitivo e metalinguistico così come quest'altro appunto che ha il da anche no questo è molto carino rispetto agli errori che anche con la leggenda che no migliorabili imbarazzanti quindi può essere anche carino in questo senso su ancora intelligenza artificiale abbiamo questo la maze che è invece finalizzato che guida il il riassunto quindi qui praticamente l'esercizio è proprio verso la sintesi verso il riassunto del di un testo sulla base di una serie di insomma di indicatori che possiamo possiamo dare quindi anche qui sempre in ottico in ottica formativa e ovviamente non valutativa ma insomma come come esercizio non so se c'è qualche borbara se ci sono delle domande dimmi forse posso sentire il microfono continuo vado ancora avanti fino ancora un pochino poi do la parola a Giorgia va bene sì allora siamo sulla didattica immersiva ecco mi piaceva fare riferimento alla didattica immersiva perché rispetto all'uso delle tecnologie è sicuramente la possibilità di portare i nostri studenti in ambienti immersivi simulati diciamo così in realtà virtuali e questo è ne ha un esempio sicuramente è un valore aggiunto quindi la possibilità di ricostruire questo immers è una piattaforma appunto per la realtà virtuale che praticamente consente anche proprio di ricostruire degli scenari di apprendimento e quindi delle situazioni vedete la cucina ristorante eccetera quindi intrecciando appunto la cultura la lingua e dando appunto sempre più questo senso di autenticità gli scenari di apprendimento che vengono simulati vengono proprio anche con l'avatar quindi allo studente che sceglie il proprio avatar e quindi c'è anche una sorta di responsabilizzazione viene ovviamente anche la famosa willingness to communicate la spinta a comunicare che viene in qualche modo incoraggiata perché sembra essere una sorta di alienazione non è diciamo l'avatar a fare gli errori eventualmente quindi c'è proprio ovviamente il filtro affettivo di crash che tutti conosciamo in qualche modo viene ad abbassarsi perché questi ambienti e il fatto di riconoscersi nell'avatar può essere appunto un valore aggiunto quindi una spinta all'interazione della comunicazione e appunto sempre come didattica immersiva l'esempio della Monash University che praticamente ha proprio ricostruito in Second Life Prato con la città anche il campus universitario per dare la possibilità agli studenti internazionali di poi simulare non solo diciamo con l'avatar entrare e quindi passeggiare e visitare la città di Prato ma anche proprio il fare una sorta di simulazione rispetto a quelle che sono le attività del campus quindi c'è proprio la simulazione del campus vero e proprio il campus universitario che gli studenti internazionali troverebbero in Italia e quindi in questo senso è anche un po' una sorta di preparazione che si fa una sorta di training perché appunto poi gli studenti quando verranno in Italia più o meno saranno preparati anche per appunto magari evitare lo shock culturale e così via e un altro esempio e questo insomma ve lo consiglio è molto molto semplice molto user friendly è Mozilla Hubs che permette proprio di creare questa questa simulazione questa di fare entrare gli studenti basta condividere un link è gratuito e praticamente gli studenti possono proprio scegliere l'avatar e entrare in questi in questi in questi ambienti anche poi cambiare vedete ci sono dei cartelloni insomma l'ambiente può essere ovviamente customizzato può essere modificato e la comunicazione l'interazione può avvenire attraverso la chat quindi attraverso il testo oppure attraverso il microfono attraverso l'audio attraverso la voce e quindi anche in questo diciamo che c'è questa possibilità di far scegliere loro per esempio il canale comunicativo è anche proprio per abbassare sempre il filtro effettivo magari ciò che si sente più preparato più diciamo così pronto a scrivere per esempio piuttosto che a parlare o viceversa e quindi anche questo è un modo per incoraggiare appunto l'interazione e la comunicazione ancora vi propongo qualche altro esempio di tool di repository in questo caso questo forse lo conoscerete abbastanza noto learning apps dove praticamente trovate tutta una serie di di attività di giochi qui appunto la gamification le game based learning sono sicuramente la diciamo la prima leva si può scegliere anche il livello ovviamente la lingua questo repository multilingue e anche cercare con all'interno del filtro inserendo una parola chiave il diciamo il tema l'argomento che su cui si vuole lavorare quindi la cosa interessante di questi di questi di questi repository è il fatto di poter scegliere trovare dei materiali che magari sono stati già confezionati da altri docenti perché ovviamente questo è un repository costruito da docenti ma nello stesso tempo anche modificarli eventualmente quindi da una base di partenza e e poi far adattare o anche creare ex novo dei giochi che possono essere dei quiz un fill in the gaps un esercizio di ascolto anche sulla propria con i giochi quindi è sicuramente molto divertente allora adesso però prima di dare la parola a Giorgia volevo farvi vedere un piccolo esempio di della CACPT non so se l'ha aspettato un secondo che faccio una condivisione interrompo un secondo perché sicuramente insomma parlando di strumenti digitali non possiamo non parlare della CACPT volevo così proprio per fare un esempio concreto poi magari appunto chiediamo anche ai nostri partecipanti se l'hanno già utilizzata se hanno avuto modo se hanno esperienza e appunto eccola qui vedete il mio schermo vero? Mi confermate? No ancora cioè io non lo vedo No No ancora no allora aspettate che riproviamo ora adesso sì perfetto grazie mille allora praticamente la questa è appunto la famosa CACPT e la semplicemente in questa stringa possiamo chiedere tutto quello che vogliamo possiamo interrogare in qualsiasi lingua perché ovviamente è multilingue e sicuramente al di là di tutta la discussione tutta la insomma la dibattito sul cheating appunto sulla copiatura e così via per il docente può essere sicuramente una facilitazione notevole e quindi vi propongo un piccolo esercizio che rispetto ad una un'attività che abbiamo fatto con un gruppo di docenti nel periodo di Sanremo di febbraio che era praticamente i docenti lo hanno appunto utilizzati era in un corso di formazione ad Amsterdam l'hanno utilizzato praticamente con i loro studenti ed era praticamente la consegna era scrivi un testo di posso quindi dire anche quante righe quanto quanto lungo eccetera su Sanremo e quindi la richiesta può essere appunto riferita a livello può essere riferita a qualsiasi argomento tutto quello che vogliamo e quindi io posso già avere dalla ci pensa un po' adesso speriamo che non sia troppo non ci siano problemi perché a volte o c'è problema di linea eccolo e praticamente costruisce appunto risponde alla mia richiesta quindi io posso dare il delle consegne più o meno dettagliate adesso appunto la mia è molto generica però posso anche specificare anche il livello per esempio per apprendenti di livello eccetera il numero delle righe posso dare insomma anche delle indicazioni un po' più precise e poi la cosa ovviamente la facilitazione per esempio in questo caso parlando di una sorta di comprensione testuale posso proprio chiedere di costruire un quiz un test a risposta multiple a partire dal testo sto andando ancora avanti ho chiesto appunto deve arrivare le righe che gli ho chiesto vediamo un po' dovrebbe aver quasi finito adesso praticamente ho chiesto di fare di costruirmi il test quindi il quiz può essere risposta aperta può essere insomma di tipologia varia per cui ovviamente la facilitazione che può essere appunto per il docente è proprio questa cioè io ho del materiale intanto diciamo comunque autentico e poi ovviamente ho già il test costruito quindi se voglio fare le risposte corrette le alternative sicuramente può essere giusto per farvi vedere così un esempio di come l'intelligenza artificiale di come c'è il CPT possa aiutarci possa essere una facilitazione per il docente ovviamente sempre tenendo conto appunto la regia metodologica che è nelle nostre mani quindi i caveat che tutti conosciamo bene adesso do la parola a Giorgia per continuare questa carrellata e vi ringrazio wow grazie mille utilissimo veramente complimenti appunti molto interessante devo dire molto io avvio la condivisione mi confermate se vedete si si vede si benissimo allora senza dilungarmi troppo nella parte introduttiva possiamo dire ovviamente che gli strumenti digitali facilitano l'apprendimento e sostengono l'inclusione favorendo anche un clima collaborativo nelle nostre classi e che l'uso della multimedialità sicuramente aiuta la motivazione e la partecipazione attiva degli apprendenti nel trovarmi a selezionare alcuni tool per l'incontro di oggi ho adottato alcuni criteri innanzitutto sono andata a scegliere dei tool che fossero trasversali alle varie discipline quindi spendibili in contesti diversi ma anche che fossero gratuiti ed intuitivi da usare un altro punto secondo me molto importante era anche il fatto che fosse semplice la condivisione tra docenti anche per riuscire a impiegare diffusamente le varie attività realizzate un altro punto importante era anche il fatto che i tempi di progettazione fossero limitati che quindi non comportassero un dispendio di tempo eccessivo e che questi strumenti facilitassero l'apprendimento di tutti gli studenti non soltanto gli studenti stranieri ovviamente vedremo quindi brevemente l'uso del testo digitale e Deeple Moodle la piattaforma Moodle Mindomo e anche Caut giusto una panoramica allora il primo tool di cui parliamo è Deeple che associato al testo digitale che ormai ha ogni libro di testo rappresenta una risorsa particolarmente interessante Deeple è un traduttore che si avvale che è potenziato dall'intelligenza artificiale e che consente di realizzare delle traduzioni autentiche e naturali ma secondo me un punto di forza è anche quello di poter trascinare un file che sia pdf word oppure anche una presentazione e subito di avere una traduzione nella propria lingua questo potrebbe potrebbe essere interessante per attuare magari delle strategie didattiche come quella di fornire allo studente magari straniero magari uno studente nai il testo digitale dell'argomento che si pensa di affrontare durante la lezione successiva in questo modo traducendolo con Deeple nella propria lingua potrebbe magari intanto avere una comprensione globale dell'argomento prima della spiegazione in classe durante la quale poi diciamo ci si potrebbe focalizzare sull'apprendimento del lessico specifico e quindi avviarsi verso una comprensione analitica sicuramente oltre che per i nai anche per gli studenti stranieri potrebbe essere un modo per superare la povertà lessicale che in alcuni casi diciamo in alcuni casi si verifica come vi dicevo è possibile tradurre file di più tipologie ma allo stesso tempo si può anche cliccando sulle parole ascoltarne la pronuncia e addirittura anche sotto sull'area dizionario verificarne il valore grammaticale passando ora la piattaforma Moodle è una piattaforma gratuita per la progettazione di corsi e attività è uno strumento con il quale si può condividere e creare collaborativamente del materiale e prevede delle attività varie di vario tipo tra cui quiz wiki file glossari la condivisione di audio e video e anche un forum diciamo che tra i punti di forza sicuramente ci sono il feedback immediato per alcune delle attività ma anche la condivisione dei materiali tra i docenti che possono essere modificati in base alle proprie esigenze quindi adattabili adattabili in base al contesto qui ho selezionato alcune tra le attività che ritengo più significative un wiki è uno strumento che favorisce il lavoro cooperativo diciamo che sostanzialmente si configura come una pagina web che può essere scritta più umani dagli studenti che arrivano a produrre un testo finale unico un glossario che è uno strumento molto utile per gli studenti stranieri ed è anche possibile realizzarlo per immagini cosa che sto progettando nel mio corso di italiano di livello A1 che essendo un livello basso sicuramente può beneficiare da un glossario per immagini sicuramente molto più immediato ed intuitivo poi abbiamo anche il forum che consente ai partecipanti di scambiare idee e di avere discussioni che potrebbe essere uno strumento molto utile anche tra pari per aiutarsi a superare magari le difficoltà emergenti in un percorso didattico i quiz consentono la progettazione di una grande varietà di domande hanno il valore aggiunto del feedback immediato nella maggior parte dei casi e spaziano da dalle domande come il vero o falso fino ad arrivare alla risposta breve alla domanda componimento una domanda che prevede una risposta aperta ma anche drag and drop risposta multipla ci sono ecco varie tipologie la risorsa libro invece è una risorsa multipagina con un formato simile ad un libro dove ad esempio si può anche raccogliere il materiale di un determinato argomento per poi tornarci un altro tool che volevo menzionare è Mindomo perché lo trovo molto utile nell'apprendimento delle discipline anche delle discipline orali e diciamo è un software che è molto utile per la realizzazione di mappe concettuali per parole chiave che si possono esportare in molti formati e si condividono facilmente si può fare un ampio uso anche di immagini link video e questo può migliorare l'accessibilità ma anche la comprensione dei contenuti concretizzando anche argomenti piuttosto astratti che spesso possono specialmente nel caso di alunni stranieri generare delle difficoltà questo può essere uno strumento funzionale anche per la maturazione delle strategie di studio e favorisce l'autonomia dell'apprendimento che poi diciamo l'obiettivo ultimo dell'azione didattica veicola anche lo sviluppo delle competenze quali il sintetizzare l'analizzare e risolvere problemi e ricercare i modelli sono molteplici io qui vi ho messo un esempio che ho realizzato io come prova e questa è una mappa concettuale e come anticipavo sono strumenti digitali molto intuitivi perché semplicemente con questi due tasti possiamo aggiungere un nuovo sotto argomento oppure un argomento sotto cioè tendente verso il basso la condivisione è molto semplice ed intuitiva anche questa e permette di farlo tramite link ma anche tramite email a seconda ecco delle proprie preferenze l'ultimo strumento digitale che ho scelto di presentare è CAUT CAUT è un tool di gamification utile per creare quiz e sondaggi ai quali semplicemente si accede inserendo il pin di gioco la procedura è estremamente semplice dopo la prima registrazione dall'area riservata si può creare un quiz anche qui vedete ci sono molte tipologie molto simili a quelle che abbiamo visto in precedenza si può scegliere il tipo di risposta le opzioni anche il tempo di risposta e decidere se renderlo pubblico o privato cliccando done per terminare la creazione si riceve a quel punto il pin il pin da condividere per partecipare al quiz oppure al gioco perché ora vedremo che è possibile anche farlo in gruppo l'esempio che vi ho portato è questa attività gamificata per la didattica del lessico dell'italiano perché ad esempio è facilmente applicabile ai campi semantici delle varie discipline ma anche alla sinonimia antinomia o alle espressioni idiomatiche in questo caso diciamo prima gli studenti risponderanno al quiz che ha creato l'insegnante però poi saranno anche in grado di realizzarne di loro il gioco nella modalità team mode prevede un torneo con vincitori e podio ma esiste anche la modalità classic dove appunto il gioco è in realtà individuale anche qui si possono aggiungere immagini link e video e qui a destra vediamo un esempio di quiz sul campo semantico della geografia CAUT fornisce anch'esso dei feedback immediati e costanti e questo rappresenta un po' l'elemento chiave della gamification che sicuramente motiva e sostiene l'apprendimento degli studenti ci sono state recentemente delle sperimentazioni che hanno visto come CAUT sia sicuramente molto più efficace nella fase di consolidamento quindi dopo magari aver affrontato un argomento in classe hanno notato che fare consolidamento con un quiz oppure con un torneo con CAUT sicuramente riesce a potenziare questa fase io avrei concluso ringrazio per l'attenzione se ci sono domande volentieri sono qui ringrazio veramente Giorgia Montanucci e Letizia Cinganotto per la presentazione che ho trovato veramente interessante grazie mille e a questo punto aprirei dibattito ci sono ancora circa dieci minuti se ci sono delle domande da casa è il momento giusto per chiedere abbiamo una domanda di Cristina Montilli prego mi sentite? adesso sì no non ti sentiamo aspetta però adesso sì ora sì sì ok non so grazie Letizia perché tutta questa cosa sull'intelligenza artificiale è utilissima veramente nuova è una nuova nuovo mondo volevo chiederti una cosa perché non lo so quando hai parlato della chat GPT e quindi della possibilità per l'insegnante di creare un testo sul quale puoi fare far fare non so risposte a scelta multiple cioè far far lavorare gli studenti tu hai parlato della possibilità di avere in questo modo un testo autentico sul quale gli studenti lavorano in che senso autentico cioè perché come viene creato questo testo viene preso altri testi sì diciamo che questo questo è stato un po' il dibattito di questo periodo infatti sapete che insomma è stato per un mese è stata bloccata questa OpenAI perché appunto il garante poi insomma il discorso della privacy diciamo che ci sono ovviamente dei caveat nel senso che questo sulla diciamo l'autenticità quando mi riferivo all'autenticità è il fatto che comunque è un testo che viene diciamo generato collazionando come dire i corpora su cui si fonda la la GPT e quindi ha un dietro ovviamente un corpus di testi e sono un po' le informazioni che trova in rete le cose no tutta una serie di motori di ricerca che mette insieme e quindi restituisce è anche vero che bisogna fare un pochino di attenzione adesso diciamo magari sul discorso del di Sanremo era abbastanza come dire diciamo semplice però a volte la diciamo la bisogna fare attenzione rispetto alle informazioni che appunto sono generate perché non c'è ovviamente un controllo e quindi come dire sono le la collazione di informazioni che comunque l'intelligenza artificiale prende no nella in rete e quindi potrebbero a volte essere però questo potrebbe essere da una parte anche un esercizio proprio sulla sulla consapevolezza no sulle fake news sulle quindi fare proprio guidarli anche alla ricerca per esempio di eventuali notizie che magari possano non essere corrispondere che magari sono comunque circolano comunque in rete perché ripeto l'intelligenza artificiale va a raccogliere queste fonti però non è in grado di fare una no ovviamente di fare una scenda di miscerne del vero dal falso il no quindi comunque è una un esercizio che però potrebbe essere appunto utile per guidare i nostri studenti proprio no verso la la consapevolezza e l'uso diciamo appunto consapevole di questo strumento che comunque ha sempre bisogno dell'intelligenza umana del nostro controllo e quindi anche in questo senso può essere utile però sicuramente è una bella facilitazione perché magari il docente che appunto sa agli strumenti per giudicare rispetto al testo che viene restituito può fare ovviamente delle modifiche può fare dei tagli eccetera però per esempio è una buona facilitazione però senz'altro delle prove guarda sì sì farò senz'altro delle prove per vedere grazie fammi sapere Cristina fammi sapere soprattutto il tipo di richiesta del quiz appunto testa risposta molti vero o falso oppure no quindi ti dà e anche per esempio non so il numero delle parole oppure anche il livello quindi il testo anche la diciamo così il livello linguistico magari più o meno semplificato mi farà piacere mi farà piacere se mi vorrei dare un feedback lo proverò assolutamente grazie grazie a te Cristina grazie c'era Valentina se non sbaglio aveva alzato la mano vero? esatto ciao ciao intanto grazie allora dunque no in linea con la domanda di Cristina con l'osservazione di Cristina perché anch'io ero incuriosita no da questa da come si generasse no questo testo però ok chiarito questo l'altra mia perplessità cioè pur rimanendo molto affascinante la mia perplessità è poi sulla creazione delle prove perché quando hai fatto vedere no come come ecco si generavano le scelte multiple insomma sulla sulla qualità delle scelte multiple avevo insomma diverse perplessità no sì sì certo quindi insomma da usare con cautela è assolutamente da provare no per quello dicevo è sempre no la nostra da provare no esatto la nostra no il nostro controllo la nostra quindi magari può rappresenta può essere una base perché ripeto lui va a cercare no cioè quello che trova e quindi potrebbero essere appunto anche cose postate in rete in maniera appunto non proprio come dire scientificamente no e quindi sicuramente però come base di partenza può aiutare può risparmiare del tempo però poi siamo sempre noi che alla fine dobbiamo dare appunto una un fare un controllo non affidarsi troppo ecco sì assolutamente no no assolutamente io sono appunto partita no dalla legge melodotica che siamo noi no che dobbiamo controllare dobbiamo rivedere dobbiamo fare quindi è tutto nelle nostre mani questo può essere un aiuto una facilitazione ma ovviamente siamo poi sempre noi l'ultima parola aspetta noi e per fortuna grazie a te grazie a te Vale c'era un'altra domanda eh sì no sono io salve a tutti complimenti veramente interessante perché ci avete fatto vedere anche proprio cose pratiche utilizzabili da subito e insomma anche nuove quindi cioè sulla bocca di tutti mi è piaciuto molto e volevo fare una domanda io cercavo proprio una piattaforma dove diciamo radunare tutto il materiale poterci confrontare con i colleghi io sono in Cina è appena nata un'associazione di insegnanti italiani in Cina stiamo proprio anche cercando tra di noi una cosa del genere e vedendo la piattaforma Moodle avevo provato a capirci qualcosa diciamo però mi sembrava che fosse una cosa un pochino al di fuori della portata un po' più per le università per qualcosa di più corposo non che io cioè si potesse fare una cosa del genere allora ho trovato poi appunto chiedo un attimo a voi il vostro parere se invece mi sbaglio ma volevo segnalare che ho trovato nel frattempo magari la conoscete una piattaforma che si chiama WeSchool creata da italiani allora ho iniziato a usare questa e non so volevo sapere qualcosa di più su Moodle e se le conoscevate cosa ne pensate di questa WeSchool che ho appena iniziato a usare poi lascio a Giorgia anche per integrare sì sì assolutamente WeSchool è stata allora durante la pandemia praticamente inizialmente le scuole in Italia si sono diciamo moste in maniera un po' autonoma e hanno diciamo così la prima fase è stata un po' estemporanea poi però le indicazioni del ministero sono state verso invece una come dire regolamentazione quindi l'adozione di una piattaforma della scuola e quindi in qualche modo le scuole si sono dovute adottare si sono dovute dotare di una piattaforma che fosse lo strumento appunto ufficiale e tra appunto le più popolari sicuramente Moodle che appunto dal contesto magari un pochino più elevato più universitario in realtà è stata ampiamente adottata anche nelle scuole perché poi comunque è appunto open source come diceva Giorgia eccetera quindi è abbastanza anche semplice da usare e WeSchool è anche stata una delle più gettonate così come Teams eccetera quindi diciamo che sicuramente gli strumenti sono tanti sicuramente il Moodle è quella che abbiamo ovviamente noi all'università e che però diciamo è un'ottima soluzione ma appunto ce ne sono anche delle altre sicuramente anche WeSchool è una valida alternativa però Giorgia se vuoi aggiungi pure tu le tue impressioni sì assolutamente io nel momento della pandemia lavoravo a scuola per cui mi sono trovata proprio ad utilizzare WeSchool per cui è una piattaforma che conosco ed effettivamente mi sono anche trovata bene Moodle forse all'inizio per partire e prenderci un po' la mano dà un po' un'impressione ecco che sia di più complesso utilizzo poi mi sono trovata adesso a iniziare il mio progetto di ricerca su Moodle un corso a uno e piano piano prendendoci piano piano confidenza funzione per funzione con le varie attività devo dire che è intuitivo secondo me è da provare quindi offre forse qualcosa di più vedendo insomma Wiki che su WeSchool non c'è giusto qualche strumento di più quindi vale la pena esatto dei vari plug-in eccetera è possibile aggiungere anche altre funzionalità quindi si può avere una versione un po' più basic e poi altre ovviamente a mano a mano si possono aggiungere altre funzionalità insomma grazie grazie quindi ne ho approfittato grazie non so se si può fare non conosco WeSchool quindi non so se si può registrare se gli studenti stessi possono registrare la loro produzione orale ma con Moodle si quindi eventualmente non so magari esiste anche la possibilità anche con l'altra piattaforma esiste anche nell'altra piattaforma si 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 può fare ah ok va bene va bene pensavo di aggiungere qualcosa ma in realtà no no diciamo che poi gli strumenti quelli un po' più di base sono abbastanza comuni insomma poi più o meno avanzati con delle modalità un po' diverse insomma però poi ognuno fa diciamo così la la scelta nel senso che magari in base al contesto potrebbe essere più utile una piuttosto che un'altra quindi no fa le varie prove e quindi come dire poi le scelte sono anche individuali lasciamo tempo per un'ultima domanda e poi sì salve buonasera mi sentite sì sì io non so vorrei rialacciarmi ho visto utilizzando Moodle sulla relatrice Giorgia l'utilizzo di un glossario quindi diciamo interno ovviamente alla piattaforma Moodle ma volendo non so creare un glossario poi fruibile anche poi per il lessico ad esempio specialistico ci sono altri web tools insomma da poter consigliare oppure diciamo ha solo questa specificità solo di Moodle io mi sono focalizzata su questo perché al momento sto proprio lavorando su questa piattaforma di specifico per realizzare un glossario al momento a me non so se la professoressa Cinganotto ha in mente un tool specifico perché proprio con questo obiettivo non non me ne viene in mente uno al momento ma diciamo che sul proprio sul glossario sì di solito lo usiamo proprio perché ce lo abbiamo come dire in Moodle disponibile per esempio io lo faccio anche usare proprio agli studenti lo creano loro su quelle parole chiave rispetto al corso rispetto alle cose che facciamo eccetera quindi avendolo lì a disposizione all'interno della nostra piattaforma non andiamo all'esterno perché ce l'abbiamo già tutto lì e quindi è una delle funzionalità più comuni e più utili quindi diciamo rimaniamo rimaniamo in genere rimaniamo lì però insomma è molto utile va bene grazie probabile che ce ne siano altri sì sicuramente ce ne saranno altri però ecco noi abbiamo come dire la nostra comfort zone nella nostra piattaforma anche perché all'interno di Moodle nel corso è molto utile il fatto che siano autolincabili nel senso che praticamente quando si ne glossare la chiave viene definita e la si ritrova in qualsiasi altra parte della piattaforma c'è direttamente la possibilità quindi questo è un rinforzo anche soprattutto per i nostri studenti internazionali che magari abbiano bisogno appunto di comprendere cioè di rinforzare di rivedere eccetera diventa tutto quanto un ambiente di apprendimento una sorta di scaffolding di rinforzo continuo esatto e quindi noi lo utilizziamo ampiamente lì grazie grazie buonasera grazie a lei in voi bene io vi ringrazio molto Letizia Giorgia per per questa per questo riassunto molto molto interessante e utile come hanno detto i partecipanti anche pratico e utilizzabile sin da subito vi ricordo il nostro prossimo appuntamento che terremo il 10 maggio questa volta in modalità mista quindi chi vuole venire in presenza sarà il benvenuto da noi ma assicureremo anche il collegamento online quindi vi ringrazio tutti i partecipanti che sono sempre presenti ci accompagnano in tutti questi incontri e Andrea Mauro per chi ne avrà bisogno vi manderanno i certificati di partecipazione poi se volete magari qualsiasi follow up magari possiamo lasciare anche le nostre mail io non ho lasciato in questo momento non posso scriverla però insomma è quella istituzionale letizia.cinganotto chiocciolaunistrapg.it la stessa per Giorgio giorgia.montanucci e chiocciolaunistrapg.it per qualsiasi grazie io scusate volevo chiedere una cosa perché sono entrata due minuti dopo volevo sapere le indicazioni delle varie applicazioni dei vari tools potete darci un elenco di questo materiale perché così abbiamo la possibilità di guardarli con calma uno per uno per vedere come ci possono essere utili grazie mille perché sono veramente utili quindi abbiamo così tempo a casa di vedere esatto grazie va bene possiamo anche aggiungere alla registrazione di oggi magari sui nostri social possiamo anche aggiungere questa breve lista sia su facebook che sui vari luoghi dove ci ritrovate va bene grazie mille grazie a tutti grazie a voi grazie mille grazie grazie mille grazie mille arrivederci certo grazie grazie